Buongiorno a tutti, oggi siamo venuti a Bardonecchia per fare un rilievo nivologico visto che una delle zone maggiormente colpite dalle ultime nevicate. Prima però andiamo a vedere cosa è successo nell'arco dell'ultima settimana. Lo scorso fine settimana una nuova perturbazione ha interessato la nostra regione con quantitativi di neve maggiori sui settori occidentali e meridionali. Dopo la nevicata si sono osservati distacchi per lo più di piccole o medie dimensioni dai pendii maggiormente ripidi. La settimana è poi proseguita con giornati miti e notti serene che hanno permesso un generale consolidamento del manto nevoso. Per il fine settimana sono attese giornate generalmente serene con rinforzi di vento sui settori occidentali e settentrionali che tuttavia non varieranno il grado di pericolo valanche che si manterrà a due moderato su quasi tutti i settori per la presenza di lastroni da vento. Ed ora una piccola curiosità. Guardate cosa abbiamo trovato oggi questa ebrina di superficie si forma durante le notti serene in assenza di vento e può raggiungere anche dimensioni di qualche centimetro. Se viene poi ricoperta da una nuova nevicata può diventare un piano di scivolamento per distacchi di valanghe. E per oggi abbiamo concluso per maggiori dettagli leggete il bollettino valanghe sul sito di Arpa Piemonte oppure attraverso il servizio telegram valanghe.pe. Buona settimana a tutti e ci vediamo venerdì prossimo.